Ilmittentorio è lì, è lì sotto con la Glenn Bigaclina la vedo sul tema quanto sempre costa l'ha ucciso Andiamo a chicarlo, andiamo a chicarlo. VIVA MARIA 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 Marci si è rimediata Ne ha da fare Laccene un attimo Starà una punizione Una volta tanto ci chiappa Siamo noi Starà una punizione